Musica E' previsto per oggi pomeriggio l'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, si parlerà soprattutto della riforma elettorale. Il presidente della banca aria a Pratesi è trovato morto insieme a moglie e figlio nella loro casa di Campo Visenza a Firenze, il povero indagato si è sospetto un omicidio o suicidio. Carolina Costa del bronzo è il campionario europeo di Budapest, gli anticipo di campionato aspettando la sfida di Coppa Italia a Roma-Juve. Musica Musica